ci informano che è ritirato. 14.10 5 stelle e il 40 cioè il 40 è il primo firmatario e a pagina 296 ha detto aula, scusi chiedo scusa, non ho sentito allora, 14.11 lombardi, immagino 5 stelle sia favorevole, sell? Contrario perfetto, 14.12 Alberti mi rimetto all'aula 5 stelle, favorevole 14.13 lombardi mi rimetto all'aula 14.14 pesco, favorevole 14.15 Dadone contrario favorevole 14.16 Cozzolino mi rimetto all'aula favorevole 14.17 contrario 14.18 favorevole favorevole e favorevole 14.19 Alberti favorevole favorevole prego i colleghi di uscire in silenzio 14.24 Cozzolino favorevole favorevole 14.25 Cozzolino favorevole favorevole 14.26 27 centemere 40 favorevole mi rimetto all'aula ah, questi ah, da qui chiedo scusa da qui partono gli accantonati e sono questi fino a pagina 305 al termine del Cominardi che è il 14.35 quindi noi riprendiamo a pagina 306 coi pareri al 14.37 Sorial favorevole favorevole 14.39 favorevole